Noi faccio la mia vita, ma non ho rinuncita, non hai visto il mio culone. Mi appassi che la mia vita, davvero, sul gredino. A casa! Aiuto, vai Andrea, ma come? Ma questa non è la punizione, per noi è la punizione questa, per noi è la testa di punizione. Grazie.